I consorsi fiore all'occhiello dell'eccellenza della produzione italiana siamo in compagnia del Presidente Liberatore a quale vogliamo chiedere il perché di un happening come questo in conclusione dell'anno per gli auguri qui a Roma. A Roma perché è nella nostra sede ma soprattutto perché l'AICIG ormai è diventata l'associazione chiamiamola orizzontale cioè che rappresenta tutte le filiere più importanti dei prodotti certificati diciamo che ha sede qui a Roma. Naturalmente è diventato l'interlocutore principale del Ministero, l'interlocutore principale a Bruxelles di quelle che sono le nostre diciamo le nostre problematiche e quindi è un momento importante salutare tutti i giornalisti, tutti coloro che ci aiutano nel divulgare, nel fare informazione, formazione soprattutto nei confronti del consumatore per prodotti di questa qualità, di questa portata e che rappresentano il fiore all'occhiello della produzione agroalimentare italiana. Ecco una sorta di coordinamento perché è un'associazione che sotto suo cappello ha veramente tantissimi consorzi ecco. Quali sono i più grandi? Consorzi più grandi devo dire che questa associazione si connota proprio perché oltre ai consorzi grandi che tutti quanti conosciamo come il prosciutto di Parma e San Daniele oppure il grana padano e il parmigiano reggiano ci sono anche tanti piccoli consorzi di produzioni non dico sconosciute ma sicuramente non conosciute come quelle che ho citato ma che sicuramente hanno delle produzioni di altissimo livello qualitativo. Posso dire dall'oliva bella della daonia al radicchio di treviso, al pomodoro di pacchino, al limone di sorrento eccetera eccetera eccetera. Ci sono tanti oli quindi tutto questo mettere insieme grandi e piccoli, mettere insieme gli interessi che riguardano specificamente le denominazioni di origini, le loro problematiche e soprattutto il loro significato, ciò che c'è dietro una denominazione per noi è stata assolutamente un'esperienza importante. Abbiamo iniziato qualche anno fa quasi scherzando, oggi siamo diventata l'associazione più rappresentativa in assoluto ed è un unico esempio di un'associazione come la nostra a livello europeo. Quindi ci tenevo a sottolineare questo aspetto perché effettivamente è un'esperienza molto molto lusinghiera. A proposito di esperienze allusinghiera diciamo quali sono le caratteristiche per candidarsi ed entrare nel vostro circuito, cioè che cosa richiedete nello specifico? No è tutto molto semplice, basta che ci sia una produzione certificata e un consorzio riconosciuto. Come voi sapete i consorzi sono riconosciuti dal ministero, devono avere determinate caratteristiche, devono essere aperti a tutti e quindi i consorzi sono i veri motori delle denominazioni, sono gli organismi che le gestiscono e oggi è fondamentale gestire le denominazioni perché bisogna sempre pensare che riconoscere una denominazione non è mai un punto di arrivo, ma un punto di partenza perché è da lì con le spinte che nascono dal basso che si deve continuare a crescere, a far progredire e a far conoscere sempre di più la qualità del prodotto certificato.